Signore e signori bentornati sul mio canale qui è il vostro Tono Kid che vi parla e oggi siamo tornati con Drag Dealer Simulator 2 pronti per tornare sulla nostra isla Sombra a vendere cose signori per lo più a vendere diciamo la Maria e l'Anfetamina che abbiamo comprato dal buon Marcus perché ancora non siamo attrezzati del nostro nuovo nascondidio all'Arcipelago che in realtà abbiamo al momento attrezzato solo per l'erba e infatti c'è un problema di scambio di cose cioè noi dobbiamo portare di là a parte qua che abbiamo quello che avevamo rubato dagli i brutti ceffi che abbiamo ammazzato per il buon Pedro Pedro si chiamava sì luce di Pedro perfetto avevamo recuperato un po' di cosette e qua ci mancavano i semi che abbiamo tutti dall'altro lato e quindi direi di visto che sono i 17 visto che abbiamo delle vendite in programma ah per le 18 5 e 2 di Maria che non abbiamo perché eravamo stati derubati anche dalla polis facciamo eh dei facciamo una scorta di ehm pacchi da 2 10 pacchi da 2 e 10 pacchi da 3 riusciamo sì dovremmo riuscire ok perfetto non è vero perfetto quindi da 3 grammi facciamo eh 9 non 10 ma 9 ok perfetto per quanto riguarda l'anfetamina eh l'anfetamina allora fatemi capire i nostri ok Ruben ha 85 25 di anfetamina a Gabriella Vargas manca la cannabis ok e anche a Victor Navarro l'anfetamina non ne stanno chiedendo tanto adesso sulle due isole quindi comunque noi ci facciamo i nostri pacchi da facciamo i pacchi da 10 grammi da 15 3 pacchi da 15 che poi consegniamo ad ognuno dei nostri eh dipendenti quei 5 grammi ci facciamo 5 pacchettini vai tanto a livello di eh bustine ne abbiamo un quantitativo abnorme andiamo a fare la vendita di quei due che popapperanno non so dove non mi ricordo dove ah è vero siamo persone di interesse signori come si può leggere dal eh dalla scritta in alto siamo persone di interesse perché abbiamo fatto a botte abbiamo però recuperato anche un coltello che credo sia più forte del non so se ci sono delle statistiche sì danno 17 probabilità di sanguinamento 35% sinistro 15% più 15 ovviamente siamo più sinistri danno 19 ah no più danno il piede di porco vai ha meno probabilità di sanguinamento probabilità di stordire 20 eh oddio c'è un imbarazzo della scelta tra le due cose allora passiamo qua dal buon Ruben che è il nostro primo storico spacciatore ciao Ruben ti aspettavo vestito in modo diverso eh ah con tanti non ne hai quindi vabbè eh stai di buono poi ti lasciamo giù la la roba eh ma sono tutte due due qua all'isolotto sì perfetto sti gatti che mi agolano male vengono maltrattati ciao caro due di Maria a te carissimo arrivederci grazie poi andiamo di là qua possiamo lasciare per il buon Ruben eh gli lasciamo i 15 di anfetamina ok per quanto non la stia vendendo più di tanto però dobbiamo andare di là a eh prendere la Maria e a prendere i semi per riportarli qua al bunker che il bunker è scomodo però effettivamente la produzione sua ci fa comodo quindi comunque il nascondiglio in più dove produrre la Maria 5 e quindi 2 più 3 a lei salve e arrivederci grazie oltre al fatto che eh scoprendo nuovi nuovi impiegati potremmo mettere anche qua sul isolotto più spacciatori per quanto potremmo anche lasciare tutto nelle mani di scavalca qua di Ruben per il semplice fatto che almeno non dobbiamo fare noi consegne di qui gli aggiungiamo questi velocità di vendita diminuita del 24% signori ce la ce la teniamo così dai vediamo se ovviamente si aggiungono altri clienti qua nell'isolotto direi anche di no nel senso non possiamo lasciare tutto al buon Ruben allora il motorino l'abbiamo lasciato di là si brutta brutta cosa in realtà qua ci sarebbe il motoscafo credo attraccato ma il motoscafo lo userei più per spostarci nelle altre isole ma tra l'isolotto e l'arcipelago o ce la facciamo a piedi come in questo caso oppure utilizziamo il motorino che potrebbe essere una cosa buona e giusta quali sono però dei roschi personaggi credo siccome non vogliamo fare a botte siamo persone di interesse direi di nasconderci se si riesce in acqua se non ci vedono guarda lì passiamo fuori in modo stealth però rampa su da qua ok perfetto e non so se questo person of interest significa che appena ci vedono ci ci minano clamorosamente oppure se ci sono più persone rosche in giro dovrebbe essere anche la seconda eh allora torniamo qua un secondo ci hanno anche sera arrivo eh ma possiamo intanto aggiungere altri no altri clienti non ce ne sono ma soprattutto abbiamo 35 qua di cannabis ok qua andiamo a mettere i due semini e facciamo che ce ne portiamo dietro che si faceva così eh ne lasciamo qua altri due quindi prendine 5 ok eh anche perché qua signori se vogliamo aumentare dobbiamo mettere altre altre serre altre serre qua adesso andiamo a mettere 35 crea e 35 qua ok l'intilatore non sarebbe male per aumentare la velocità e a questo punto andrei a vedere eh se dobbiamo dargli almeno ventina forse anche di più a testa eh farei un pacco da 15 e uno da da 20 ok ah tra l'altro anche qui stiamo finendo il concime quindi se mi dobbiamo riportare gli alci se mi dobbiamo venderlo le altre cose le nascondiamo così come i soldi nascondiamo i soldi e e basta perché abbiamo solo due slot nascondiglio eh fatemi un attimo vedere perché esatto ah siamo dei guastafeste cioè siamo dei portatori di erogna ma perché il nostro conto in banca scende clamorosamente ma per la questione dell'elettricità ah sì dell'acqua corrente e dell'elettricità ma porca di quella vacca ma costa così tanto allora andiamo a lasciare in un posto sicuro che non so dove possa qua è questa ce l'ha a fianco il nascondiglio se non sbaglio dovrebbe avere c'è il punto beh ciao cara ma tra no è vero che non possiamo lasciarle a lei qua vicino all'emporio così compriamo anche il compriamo anche tac a lei ne lasciamo vediamo victor ne ha 19 a lei ne lasciamo 20 lo sta 20 di cannabis a gabriela ma posso lasciare più cose forse si vediamo nello stesso punto 15 a victor navarro no probabilmente no dobbiamo mettere un altro nascondiglio che sta vicino vicino non lo so passiamo anche dal nostro amico botanico a parte che possiamo muoverci col pullman non capisco perché devo andare a piedi sono un pirla e rischiamo di farci minare scusi signorina lei si signorina ha bisogno di cane un dalmata perché non possiamo carezzarlo uffa voi non siete loschi giusto avete bisogno di una birra invisibile sta tenendo in mano vabbè magari si aspettava che noi gli portassimo una birra non lo so vabbè giupia piano ok qua perfetto mettiamo i 15 grammi per il navarro victor a te i 15 grammi poi siamo qua dal meccanico e non ci serve c'è il motorino qua c'è victor ciao caro tu c'hai soldi però giusto dammi soldi allora grazie arrivederci questo eccolo qua l'alpaca dovrebbe essere un'alpaca credo tu cosa volevi l'anfetamina 3 grammini guarda ti dirò ah i 15 l'anfetamina in realtà dovevamo lasciarli ai due ai nostri due amici guarda ti do gli assaggini però basta con questi assaggini l'anfetamina ciao ciao caro allora carissimi buongiorno voglio comprare bravo che ne hai tanti di semini e ti dirò se riusciamo a metterci dentro anche due ventilatori non è male semini 12 quanto ci costano 30.600 ci sta dai me li accollo questi è finito il ok va bene siamo arrivati al livello massimo quindi possiamo prendere altri tre semini bravi bravi tutti ok e e basta non ci serve altro le bustarelle dovremmo essere a posto è caro invece so che vendi roba roba buona interessante non so la pentola se l'abbiamo presa però sicuramente il piano cottura costa di meno qua che da altre parti quindi piano cottura ti dirò tanto prendiamone uno così come la ok livello massimo perfetto così come ti dirò perché soldi ne abbiamo anche se dovremmo depositarli anche al banco dei pegni intanto il piano cottura e basta che ci ha mandato credo già direttamente al al nascondiglio ok allora andiamo rapidamente questo là è la madonna ritrovo qua cos'è metanfetamina no non ce l'abbiamo te maria un grammo guarda un grammo tenendo due perché mi sento buono arrivederci aumentare la reputazione che in realtà non credo ne abbiamo così tanto bisogno questi alla fine ci sono sempre di clienti cioè di potenziali clienti serve per aumentare un po' la reputation però oh due grammi che te di anfetamina ok a logica tutti i nostri clienti sono assegnati quindi quindi non dovremmo consegnare niente noi se non ai nostri ai nostri spacciatori al momento quindi non abbiamo clienti aggiuntivi quindi credo che dovremo andare poi dall'altro lato ad espanderci anche perché l'arcipelago è tutto quell'isola unita dal ponte quindi anche l'altro lato dove c'è la chiesa è arcipelago quindi sono pochi all'omento i clienti non so se dobbiamo aumentare forse la domanda col buon influencer Lanzo potrebbe anche essere ma al momento noi abbiamo tantissima tantissima roba da dare all'anzo anche perché qua come detto abbiamo solo una serra per carità alla la lampadina che boh aumenta la capacità produttiva del 15% riduce il consumo di energia però a me non sembra più di tanto però va bene comunque no qua dovevamo mettere il ventilatore 1 ok scusatemi voglio capire una cosa quanto quanto ci mette per una per un grammo di cannabis ad essiccarlo fatemi capire allora 4 3 2 1 dai 31 secondi ok se io lo metto in diretta diminuisce no però se io faccio così e rimetto le piantine ok ci mette 27 secondi perché effettivamente accelerare il processo del 15% ci sta che siano 3-4 secondi ok vabbè signori un piccolo upgrade e ci sta qua possiamo fare di nuovo pacchettini di cannabis e li facciamo però a questo punto li facciamo da da 10 2 da 10 2 da 10 sarebbe bello ok facciamo il terzo da 10 ok perfetto e e niente adesso ne andiamo un po' a distribuire di nuovo insieme all'anfetamina quindi ma non c'erano posti nascondigli per lasciar giù la roba e no neanche qua ah col sesto senso aumentiamo di livello ma c'è qualcosa ah ok perfetto Gabriella Vargas che ci chiede forse l'anfetamina la cannabis è un po' poca però ti lasciamo guarda dov'è 15 di anfetamina e 10 di cannabis ok ah la Vargas mentre se andiamo ah c'erano altri c'è un altro spot nascondiglio ok li lasciamo al buon Victor Navarro 10 di cannabis e 15 di anfetamina perfetto arrivederci grazie abbiamo i semini ok che stiamo trasportando niente signori proviamo andiamo 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 dal meccanico perché abbiamo lasciato lì la nostra la nostra motoretta andiamo al bunker dove mettiamo a far crescere le piantine e poi andiamo magari facciamo un salto al banco dei pegni e lasciare giù qualche qualche spiccio per intenderci allora qua motoretta aspettate passiamo un attimo da lui che è l'unico forse da cui siamo passati a ritirare i soldi ma se ne hai degli altri no perfetto ciao carissimo quindi facciamo motoretta travel a casa attenzione perché si fa notte quindi è un po' più pericoloso andare in giro soprattutto se volessimo esplorare la città nuova dove c'è il buon Pedro insomma dobbiamo un attimo organizzarci perché di notte io non ci passerei madonna questo mi sembrava invece un vendica un poveraccio sembrava un losco carissimo Ruben i soldi grazie velocità ah ok perfetto però 40k e ha fatti a te dobbiamo lasciare qualcosa anche a te abbiamo dei pacchettini che per te guarda ti lascio qua dietro che sono i 10 di cannabis e basta ciao Ruben grazie tra l'altro signori il buon Yamal ho fatto caso a questa cosa mentre editavo i video il buon Yamal gli abbiamo consegnato le 15 cannette ed è diventato nostro dipendente ma è diventato nostro dipendente quando è uscita la scheda con la sua foto era blu o verde forse verde e gli altri blu vabbè abbiamo un colore diverso rispetto agli altri tre che stiamo utilizzando come spacciatori quindi lui credo che sia uno da laboratorio o uno che distribuisce agli spacciatori non lo so perciò anche questo signori è da capire allora andiamo a mettere subito questi qua e a fare tac tac anche qua possiamo mettere le lampadine le cose questo non l'avevo onestamente non ci avevo fatto caso anche qua i ventilatori mi si potremmo anche pensare di fare gli upgrade anche qui però per il momento va bene così roba da te non ne compriamo non ne compriamo perché non ci interessa al momento ciao caro ciao marcus e abbiamo fatto tutto abbiamo lasciato tutto noi qua sì penso di sì mettiamo sempre via i soldi perché non si sa mai questi sono gli assaggini che abbiamo di scorta da portarci dietro il cestino lo vendiamo e nonostante sia notte signori facciamoci una dormitina magari ecco il concime devo ricordarmi il cazzo di concime allora dormitina andiamo a dormire perché è meglio muoversi di giorno e vediamo anche se poi compaiono dei nuovi clienti pagamento della bolletta del rifugio il nostro conto in banca piange però probabilmente quindi pronti ok i nostri spaccini sono sono a posto sì non ci danno niente migliorato personale e dobbiamo fare nuove conoscenze ok noi fornitori dobbiamo capire adesso facciamo un'esplorazione oggi signori di come cazzo si chiama quel posto qua vabbè della terza zona che abbiamo che abbiamo sbloccato con calma piano adesso passiamo dalla signora a vendere i cestini visto che ce li abbiamo così non ce li portiamo dietro e qua il bunker serve sempre concime e acqua di là c'è l'acqua corrente ma ci serve comunque concime nell'arcipelagos ciò dobbiamo anche comprare con le cose lì direi signora ci dia qualche spiccio per i cestini cani bello voglio comprare fai fluire sulle tue statistiche allora questo lo assaggiamo perché sono sempre stato curioso l'acquetta dovremmo tornare su e non ha senso al bunker non ha senso quindi ti vendo questo e ti acquisto una salsiccia perché voglio capire scusami eh ma per salsiccia 10% sazio quindi cosa aumenta non lo sappiamo va bene e rimettiamo il coltello qua dove potrebbe servirci e andiamo andiamo in barca andiamo in barca abbiamo quella barca quella moto rimane qua giusto si perfetto andiamo con la barchetta ok andiamo no non abbiamo il fuel scusami ok oh perché non si sta staccando ah ok perfetto no non non andava non si staccava dal molo ok tieni giusta cosa e dobbiamo andare però perché qua è un attimo che ci perdiamo andiamo vabbè noi andiamo a sentimento poi se fanno affondare chi se ne frega chi se ne frega no però è giusto di qua penso di si ah no dovevamo passare anche al banco dei pegni che è da questo si credo che se giriamo l'unica cosa evitiamo la police perché abbiamo già capito come funziona ci tirano tante di quelle manganellate che ce lo ricordiamo per i prossimi dieci giorni ok qua c'è il ponte distrutto di banco dei pegni andiamo a esplorare un po' la zona nuova che abbiamo scoperto nuova ma no il banco dei pegni giusto no qua c'è quello dei mobili il banco dei pegni è di qua ok poi di là traccheremo magari qua a sinistra che non è dove abbiamo attaccato l'ultima volta qua comunque c'è il nostro ade che ci porta da un lato all'altro anche di là c'è un'isoletta che boh dobbiamo capire se si può traccare può ok perfetto scendiamo stiamo ovviamente attenti accorti a chi incrociamo per le strade passiamo magari dal retro ma tra l'altro noi possiamo mettere anche dei spacciatori ma credo che sia molto pericolosa alcune cose oddio non credo che gli spacciatori facciano eccoli là quindi entra ciao caro devi capire però che non puoi tirarmi fuori i soldi così che cazzo diciamo di passare più che altro perché noi abbiamo sì nelle tasche nascoste roba ma metti nello zaino arrivederci grazie via 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 fuggi 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 io pensavo che la police facesse un po' i cazzi suoi invece per niente assolutamente per niente attenzione all'ambra attenzione all'ambra attenzione all'ambra sono sempre soldi questi eh signori stiamo raccogliendo denaro praticamente tenendo un po' gli occhi aperti possiamo vedere qualche blocchettino d'ambra ecco quello dovrebbe essere quello che compriamo sempre dal nostro amico delle barche che costava leggermente di più quindi sono andato un po' a al risparmio ah io direi attracchiamo comunque qua che è un posto che conosciamo e soprattutto facciamo meno strada qua credo che possiamo iniziare già a farci qualche cliente quindi vediamo però questi volevano che sostanza volevano Maria 2 guarda iniziamo a farci qualche cliente qua che non è male come idea lei vuole fettamina 1 eccola arrivederci aumentiamo salve cara l'ho vista cara cara caro caro scusa 2 di Maria a lei grazie salve non so se è una buona idea farlo adesso senza avere una base solida da questo lato però signori cerchiamo di capire anche questi salve lei vuole no metanfetamina non la vendiamo ancora non ancora qua c'è un nascondiglio per la roba no non è vero qua c'è un nascondiglio per la roba ok là c'è Pedro andiamo a vedere allora prima di tutto andiamo a sbloccare anche i viaggi rapidi del pullman però qua è pieno di police qua magari non ci sono i personaggi roschi ma è pieno di police e attenzione fermata del bus salve lei voglio comprare attenzione perché ci dà un po' di cosette nuove forse passa montagna meno 20 di visibilità più 25 di sinistro ma chi se ne frega del sinistro torce elettrica è più potente ok la pala perfetto che possiamo usare per far danni lampadina UV grande parti metalliche telefono cellulare è un ingrediente pensavo potessimo sentire i messaggi direttamente dal telefono invece no biglietti del bus in realtà no beh 25 ne abbiamo ancora non è che vendi chissà cosa di interessante questo cos'è firecracker c'è un è un minicicciolo praticamente questo tutte le tue chiavi non mi ricordo che cosa serviva quello era anche nel c'era anche meno 2 di visibilità più 5 di swag gli occhiali quasi quasi io signori gli occhialetti prendiamoli anche se forse ce li avevamo nel più 2 sinistro ma chi se ne frega dell'essere sinistri vai anche più cappello pantaloni sportivi noi abbiamo i pantaloni normali si si torno presto non ti preoccupare noi abbiamo i pantaloni normali che danno 2 1 4 2 3 ok questo 2 1 10 di agilità ok più 3 guarda amico i pantaloni te li prendo poi felpa in realtà ce l'abbiamo già su giusto scarpe da ginnastica sono le stesse che danno più 15 ok la felpa ce l'abbiamo su questi possiamo cambiare ah possiamo cambiarci così davanti al segno vabbè ce l'avrà io mi dico ma porca puttana saperlo non compravamo il cappellino ma vacca eva vabbè va bene dovremmo essere più agili adesso a logica quindi proviamo la nostra agilità siamo più veloci sì quello sì salve lei notice board attualmente non disponibile nuovo potenziale nascondibile scoperto appartamento ah forse qua abbiamo scoperto qualcosa no non si vede sulla mini mappa ma ok eh sì sì ok marcus però la metanfetamina non ce l'abbiamo amico sì sì c'hai ragione te marcus però che cazzo siamo curiosi e quindi capiremo cosa c'è la guarida nuovo luogo segnale sulla mappa proviamo a entrare a vedere questo anche che cos'è l'emporio nuovo emporio salve signora noi abbiamo bisogno effettivamente di questo esattamente di questo lei ha solo quello interessante a parte la pentola che costa 3 mila ma costa di più la pentola qua o sbaglio questo cos'è pacchetto di soda acqua ci può servire scusami 500 ml 300 5 litri 1 e 3 assolutamente 5 litri ok i soldi mi li tieni nascosti gentilmente così come la bamba c'è la bamba la maria in realtà dammi anche presto grazie e basta adios si si torniamo presto non si preoccupi devo solo un attimo capire ho paura no però questa è una persona ciao caro eh fatemi capire questo è in vendita vedere in termini di baracca c'è una baracca di qua non sarebbe male non credo dia troppo nell'occhio una baracca no ah proprio un buco così visibilità poca sicurezza pochissima comfort nessuno e 250 mila costa ascolta no no guarda me ne tiro fuori perché sei cioè almeno il costo doveva essere irrisorio perché non ha niente non ha assolutamente niente allora diamo comunque un'occhiata questo lato questi sono magari i posti dove possiamo nascondere roba no diamo un'occhiata comunque di qua perché potremmo trovare qualcosa di interessante tipo sta cassa non possiamo rivenderla ce la portiamo in spalla e ce la rivendiamo ce l'ha segnato qua sulla mappa l'appartamento no vabbè non so se possiamo per esempio ad esempio possiamo entrare io ma attualmente non disponibile ok neanche col col grimaldello no vabbè ma perché tra l'altro vabbè ho tolto i pantaloni ci sono cadute le cesoie mi sa perché non ci voglio credere quindi ci sono rimaste le cesoie nel ma porca di quella puttana devo tornare là al negozio di vestiti fatemi fare però un salto qua che magari c'è qualcuno di interessante salve un altro con la spalla slogata ciao caro tu gradisci oppio no oppio no non sappiamo neanche come si fa ma ho una domanda rifugi magari ti piacerà ok adesso vediamo se magari chiedendo ci indicano l'anfetamina ma anche il cristallo anche la metanfetamina ok andiamo a posto così comprare qualcosa dai l'acqua e la birra vabbè arrivederci se vuoi l'oppio voi cosa volete scusatemi oppio l'anfetamina eh mamma mia qua si può giocare no no non possono non mettere questi easter egg cioè giocare giocare con gli arcade cacchio è una cosa in più hai trovato qualcosa interessante ma che cosa ma me lo stai segnando sulla mappa no ma neanche gli appartamenti me li sta segnando ma indizi sbloccati risolvante l'abbigliamento quello che ordini influiscono sull'etito di un incontro l'incontro bisogna bloccare un'offensità ottenere nuovi dipendenti quanto gli incontri potrà migliorare le relazioni con personaggi influenti a meno che a meno che a meno che signori chiediamo a Pedro un incontro prendiamo magari dei vestiti ok no qua ok ok classico qua c'è un'altra casetta ma l'unica cosa è che non è un altro cottage salve voi avete no non avete bisogno di niente lei signorina metanfetamina non ce l'abbiamo noi possiamo anche parlare con questi no solo dargli la roba qua c'è un attracco che è comodo anche questo cioè è comodo se appunto poi noi comprassimo casa qua ah allora più che altro scusatemi cioè io per migliorare il personale che cazzo devo fare nuove conoscenze ho capito le nuove conoscenze dove le faccio se non per strada magari posso salve si può o no posso chiedere un incontro appunto a a Pedro un nuovo incontro a Pedro vediamo lei voleva oppio tipo qui c'era police occhio vediamo qua salve lei ah no questa ci cura e basta questo non ci dice niente questo sta guardando ma sta cercando un lavoro no perché noi volendo ce l'abbiamo il lavoro se vuole ma scusa amico ma io scusa non volevo sbattere la porta ma io per caso qua ho lasciato vabbè non so dove sono finite le 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 cesoie taglia fili ok allora ma si può andare ho paura di fare una brutta fine è tutta questa la nuova zona no perché se è tutta questa là c'è qualcosa a dire nuova no giungla la giungla signori siamo nella giungla signora la giungla potete potete vedere se scusate ruben sta finendo l'anfetamina mamma mia ma è proprio la giungla questa attenzione però che la giungla non so quanto sia battuta da persone raccomandabili piccolo magazzino nella giungla ok attualmente non disponibile e va bene là c'è una casetta ma c'è la segna sulla mappa persone losche voi no questa sarebbe ah un altro rivenditore moonshiner Gabriel ma non lo so mi dispiace questa persona non è interessata ma no ma ma che brutte persone forse ci stiamo spingendo un po' troppo in là eh questo non può non puoi pingarmelo sulla mappa si signori forse stiamo stiamo un po' esagerando qua c'è un banco dei pegni e un altro luogo di interesse tipo ristorante questo nuovo investimento in reputazione in giungla beach clean up nuovo potenziale nascondimento scoperto appartamento ho trovato qualcosa interessante ma sbaglio non ce li sta sbloccando cioè non ce li sta dando non ce li sta dando vabbè eh signori eh facciamo andiamo eh voglio comprare qualcosa cosa che hai tu niente interessante depositare le cose qua voglio vedere 30 ok no guardi onestamente onestamente sblocchiamo questo e poi torniamo di là da pedro perché salve lei vuole un fetta meno un grammo ce l'ho guardi prego tutto per lei però non so quanto serva qua nella giungla adesso è questo è un bar quindi ci vende questo benvenuto benvenuto bisogna cosa vuoi sapere una idea cosa è questo ok niente andrei andrei da pedro io onestamente perché credo possiamo fare gran poco da questo da questo lato nella giungla siamo finiti nella giungla caso e cos'è che voleva mi scusi oppio arrivederci non ce l'abbiamo questi li prendiamo su occhio non farci male è iniziato anche a piovere abbiamo 141 biscotti da prendere dai nostri dai ah qua c'è anche un attacco del molo sotto il ponte dai nostri spacciatori però andiamo dal buon pedro anche se forse organizzerai un incontro col buon pedro quindi cosa vuole lei mi scusi eh non ne abbiamo mi spiace mi spiace ma non ne abbiamo qua in altro luogo gli spacciatori pedro pedro carissimo ascolta una cosa eh vedi è ovvio è ovvio possiamo creare un'offerta quindi inizieranno eh credo di si dai signori con la con la maria siamo ben attrezzati quindi direi diamogli tutta la maria che abbiamo così inizia a crearci un'offerta sendo lui l'influencer l'unica cosa è che eh possiamo secondo me ci sarà un telefono qua qua c'è un telefono proviamo a chiedere un incontro al buon pedro ma qua dobbiamo ah qua eh tac pedro l'influencer la tua persona ci deve raggiungere almeno il livello uno affangulo pianifichiamo con 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 l'anzo allora al brisa marina sta aspettando al brisa marina proviamo a vedere se lui ha altri dipendenti da suggerirci adesso signori per me come prima casa è la migliore da questo lato perché possiamo arrivarci da qua non so i parcheggi delle auto il bus è di sopra quindi un po' abbastanza comodo gira gira a seconda dobbiamo andare al brisa marina se ci conviene girare di qua ok allora senti che rumore di sottofondo di questa quest'acqua qua non siamo andati però qua non siamo andati ok diciamo che abbiamo fatto un giro esplorativo anche forse ci siamo spinti un po' più in là un po' troppo in là dobbiamo in questo momento accumulare denaro e soprattutto capire come come evolverci minchia è il caso di navigare in queste acque così contemporane no chiedo attracchiamo qui ma insomma attraccherei faccio l'incontro con Pedro ma l'attracco più vicino è là ma è dall'altro lato vabbè attraversiamo il ponte sti cazzi nostra barchetta la parcheggerei qua madonna vai vai ok tra l'altro qua dobbiamo prendere altro micio ciao micio salve scusami vorrei del concime perché lo stiamo finendo un po' dappertutto più o meno stiamo spendendo un po' troppi soldi vedete qua 2,250 costa di meno qua di meno ancora credo dal botanico madonna questo giro esplorativo mi ha un po' scombussolato adesso andiamo dal buon lanzo vediamo se per caso lui ci dà qualche info in più altrimenti dobbiamo semplicemente aumentare la popolarità dall'altro lato adesso forse qualcuno visto che abbiamo iniziato la domanda e anche questo non l'avevo visto io prima e vedi rex nuovo dipendente il cane hai trovato qualcosa new cartel pet unlocked ok ma non so cosa vabbè abbiamo trovato un cane signori lei lei vuole ma noi non abbiamo arrivederci lanzo sei tu ciao lanzo questo cosa sarebbe scusatemi l'apprezzamento per il mio outfit o il tempo ecco questa è una cosa che secondo me pecca un po' di questo gioco non ti spiega bene le cose ci sarebbe bisogno di mettere in pausa il gioco e ti spiega tutte le cose che ci sono a schermo sarebbe utile ok ok cosa dici posto solo questo vabbè alve voi avete bisogno di qualcosa no si guarda visto che siamo qua compriamo una di quelle voglio assaggiare la limonata limonata de coco arrivederci refresh ed siamo siamo belli freschi belli freschi belli freschi e bagnati anche direi che ce ne torniamo dove ce ne torniamo ce ne torniamo andiamo a ritirare i soldi quindi prendiamo il bus va non facciamocela piedi andiamo a ritirare i soldi andiamo nel nostro nascondiglio tra l'altro continua a uscirci il pop up del nuovo viaggio rapido scoperto ma in realtà le fermate le fermate del bus sono sempre quelle quindi anche lì c'è un piccolo baghettino che non si aggiorna però con sto viaggio rapido che è tutto tranne che rapido allora siamo a casa siamo a casa e Gabriella Vargas 80 cioè non è abbastanza sicuro non sto capendo allora sicuramente se compriamo una cuccia possiamo mettere il cane a far da guardia quindi signori una bella cucetta e assumiamo il nostro primo animale domestico guarda lì credo che sia aumentata scusatemi se io tolgo Rex non lo so vabbè questo sta a Kayehon vedete signori è un po' un po' problematico adesso dobbiamo andare degli attrezzati però diciamo che qua nuovi clienti non ce ne sono non so se dobbiamo aumentare l'influenza con il buon Pedro oppure no guarda che ce l'abbiamo il 2-4 fai così mettine 3 3 qua ok il resto con l'acqua li portiamo di là qua ok stanno estraendo qua vai con i due semi poi abbiamo finito i semi solito 35 crea 35 crea questo non capisco scusatemi no safe to drop the cash non so se serve una forse serve davvero una cassaforte non so forse 35 però non abbiamo i soldi è quello mannaggia upgrade disponibile questo non so se vabbè noi fornitori l'attrezzatore laboratorio io non li ho scoperti quindi anche quello boh non c'era capire come progredire però però prima di tutto controlliamo una cosa voi come state messi a roba ok cannabis tu ne hai bisogno e tu di meno però iniziamo a fare tipo un pacco da 30 e uno da 15 riesci a farmene dai dai fammi un un grammettino aggiungi bravo bravissimo ok perfetto quindi andiamo a dare quello più grande a Gabriella Vargas e l'altro all'altro che in realtà significa metterne uno qua ok ci siamo qua qua mettiamo i 15 per il Navar Victor la danfetamina sta messo bene e i tuoi zia li metto più avanti va bene va bene Gabriella così almeno metto di là eh e dovrebbero dovrebbero esserci dei nascondini anche qua giusto qua davanti se non sbaglio ok ti metto qua Gabriella fa un po' di strada ma cazzi tuoi e cazzo sta vendendo tanta cannabis la Gabriella eh poi abbiamo anche il buon Ruben adesso che ci chiede ci chiede roba e scusa vi togli un attimo il messaggino oh 15 di anfetamina forse Ruben è un po' corto di anfetamina ma come cazzo è possibile che gli chieda una anfetamina di là che sono dei poracci sull'isolotto ma vacca di quell'aiva ma te lo spieghi tu come te lo spieghi credo che tu passi le giornate a pulire con la mano tra specchietto e maniglia della portiera ma vedo che il risultato non cambia ciao Baffo grazie grazie della compagnia durante l'attesa di Ade ciao Ade tu a posto guarda che occhialata grande allora qua io onestamente 4 di Maria ma ti dirò te li preparo ma per le 10 di domani e ci svegliamo alle 8 in realtà non avendo clienti aggiuntivi da queste parti potrei fare anche 9 ci svegliamo andiamo direttamente di là con la roba quindi intanto programmiamolo così aumenta la reputazione e possiamo poi forse parlare con con Pedro adesso noi qua dobbiamo passare cioè possiamo passare a ritirare i soldi da Ruben lasciargli roba no ciao caro si si ciao mamma sta voce ciao caro eh si lo so che tu hai tanti clienti ma cavoli tuoi 68.000 ma fettamina non ce l'abbiamo da darti in questo momento quindi aspetti come tutti almeno abbiamo preso i soldi eh di là non abbiamo preso i soldi dei due dei due i nostri spacciatori che cazzo salve si si voglio venderti l'ambra che ne abbiamo preso un po' per te arrivederci scusa tra l'altro tu vendi niente di interessante è vero arrivederci andiamo su al bunker e poi ci salutiamo signori che stiamo come sempre andando per le lunghe ma sapete bene che questo drug dealer ci verrà incollati per parecchio parecchio tempo bravo respira e poi hop su come uno stambecco gira l'angolo ok il bunkerino siamo arrivati non abbiamo preso i potenziamenti ma va bene qua c'è della roba anche finendo l'altra tra l'altro anche qua quindi aspettiamo un attimo qua altri soldi lì prendiamo qua io credo che ci sia in automatico una cassaforte credo non lo so cioè perché non mi spiego come perché la sicurezza è altissima come livello di sicurezza è altissimo quindi presumo che ci sia da qualche parte qualcosa che ci permette di appunto credo che sia questa eh sì ma cazzo ma ci sono entro 75.000 nella cassaforte ma ditemelo e che cazzo abbiamo un po' di soldi adesso possiamo fare degli upgrade eh grossi upgrade allora intanto prendiamoci quello che ci spetta qua fai così e fai così perfetto qua metti i nostri 40 più dall'altro lato altri 40 ok abbiamo un altro messaggio da Kai e Hon sempre le 9 domani è il migliore è il migliore al tuo personale che non non sto a capire perché loro non credo che a 3 8 76 fatemi capire e li mette qua no va bene non so perché da lui possiamo prenderli qua ah a breve consegnerà il tuo denaro ah e poi lo mette qua quindi ogni volta che abbiamo schiacciato qua con Ruben li ha accumulati nella cassaforte ma signori ma è una svolta questa adesso ho capito adesso abbiamo capito ci sta ci sta ma come siamo messi a concime 3 kg no svuotali qua acqua anche ci serve sicuramente qua mi svuota svuota anche se il coso delle sostanze si sta un po' riempiendo quindi attenzione bottiglie vuote le dobbiamo vendere ancora là e va bene signori va bene direi che ci siamo qua sicuramente dobbiamo rifornirci dal buon Marcus 113 eh signori purtroppo l'anfetamina ci serve sperando che abbiamo speso tutto sperando che appunto ci si facciamo i pacchetti adesso anfetamina facciamo 369 o 4812 diciamo 2 da 40 ok e 1 da 30 ok e la diamo ai nostri spacciatori non la vendiamo in giro così noi signori ah cazzo ce ne erano degli altri qua 60 mi fai 30 qui e 30 qui va bene signori direi che siamo abbastanza ben organizzati dobbiamo sistemarci meglio dall'altro lato nell'arcipelago per capire un po' come aumentare anche i clienti perché credo che se ne possano avviare di più perché abbiamo due spacciatori di là serviva forse uno in più di qua però vabbè dettagli e niente quindi capire anche come funziona il fatto di migliorare il personale nuove conoscenze in realtà l'anzo ci ha detto che ci avrebbe fatto contattare da qualcuno quindi boh vediamo rubenestrada drop it to the mailbox eh sì signori li mette e giusto li mette qua perché è 9 ah perché avevamo già schiacciato prima ok quindi ha aggiunto le due le due volte che abbiamo schiacciato i due pacchi di soldi ok quindi diciamo che senza andare per forza da loro con una cassaforte che costava 30.000 però li dobbiamo mettere sul conto possiamo tranquillamente farci consegnare i soldi a casa ok va bene direi che siamo a posto così signori io vado mi dirigo verso anche se in realtà non possiamo andare a dormire già perché è presto vabbè signori comunque ci salutiamo qui per oggi io come sempre vi ringrazio per la visione vi voglio lasciare un like un commento a seguire tutte le altre serie sul canale mi raccomando iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e con il nostro caro buon Eddie e il buon Marcus ci vediamo con un prossimo video alla prossima ciao 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 Grazie a tutti